e si tra un po andiamo via facciamo carico e scarico e andiamo via ho preso le uova visto che stamattina il gallo mi ha svegliato alle 6 e mezza ho capito che c'erano galli e galline quindi abbiamo preso un po di uova fresche bio super bio non sono per me le uova una tra l'ho anche attiva un pilaio di piante ci sono queste piante da perduto e visto che siamo qui andiamoci a fare un giro a san vitolo capo anche se c'è molto vento andiamo a vedere perlomeno due passi ho detto c'è vento ma due passi ce li facciamo iscriviti al canale 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 canale iscriviti al 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 canale come devo fare con questa cagnolina come devo fare con questa cagnolina calzone fritto e spingione cosa assaggiamo prima il calzone fritto mamma mia e favorite buono e ci sta una bella col calzone fritto ci sta che c'è? ne vuoi ancora? ne vuoi ancora? un altro pezzettino e vai anche di qua seduta prima che te lo dico sei messo a terra aspetta che mi servono due mani piano piano comunque è proprio buono 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 mozzarella e prosciutto ma che posto stupendo la vostra caduta eh la signora in poltrona quello è un guai io voglio fare la sopravvivenza col cacchio fare la sopravvivenza qua in sicilia se non vuoi stare tu solo viene questo qua e viene a portarti i pan i cornetti arancine con la macchina e tutti i campionisti vanno la e comprano io pure ho comprato l'altro un giorno. Eh, ma che fai? Ho comprato, vabbè, solo il pane lì questo. Tiene fine qua e ti viene a portare quello che ti serve. Riso, carciofi e patate. E il mio pranto cena è servito. Buon tramonto a tutti. Riso, carciofi e patate. Riso, carciofi e patate.